Sviluppo del business sostenibile anche attraverso una migliore gestione delle risorse idriche. È l'impegno messo in campo da Philip Morris, che ha portato alla certificazione Alliance for Water Stewardship per l'utilizzo responsabile delle risorse idriche del territorio del sito Philip Morris in Manufacturing and Technology di Bologna, il secondo impianto produttivo in Italia a ottenerla. Risultato importante in considerazione anche del fatto che se l'intera filiera manifatturiera italiana avesse seguito questo stesso trend virtuoso, i minori consumi idrici nazionali avrebbero permesso il risparmio di un miliardo di metri cubi di acqua, un valore pari ai consumi idrici annui di 5 milioni di famiglie. 208.630 metri cubi di acqua risparmiati tra il 2017 e il 2019, con anche l'avvio di un progetto per il riutilizzo interno della risorsa idrica in un'ottica di economia circolare, prevedendo una doppia fase di trattamento che consentirà un'ulteriore riduzione dei consumi. Le ricadute di questo impegno sono in primis ovviamente sul territorio, dove cresce anche la rete di collaborazione e attraverso la comunicazione il coinvolgimento di tutti gli attori. Ne è un esempio proprio il percorso di certificazione, che come ha sottolineato in un'intervista Susanna Zucchelli, direttore Acqua di ERA, attesta che il soggetto che si dedica alla comunicazione sull'importanza dell'acqua in modo continuativo sensibilizza un suo corretto utilizzo e un vero e proprio motore sul territorio per promuoverne un uso efficiente, condividendo le buone pratiche di gestione con gli altri soggetti locali presenti sul territorio. Fare rete diventa quindi un elemento essenziale per unire le forze e dare un contributo concreto. E in questo ambito si colloca anche la collaborazione di ERA sulla certificazione Alliance for Water Stewardship con Philip Morris, che ha portato a collaborare anche sulle tematiche legate all'inclusione e alla diversità.